Qualcuno si è accorto che in Slovacchia, un paio di mesi fa, ci sono state le elezioni regionali e in una di queste regioni ha vinto un signore che si chiama Marian Kotleba, che si è presentato i comizi in divisa nera da SS con la squadra di rinforzo alle spalle e ha vinto, non è che si è presentato, ha vinto al balottaggio con un programma contro i Rom, gli omosessuali, gli ebrei e gli stranieri in genere, gli immigrati e i musulmani.